Cari amici, colleghi, buonasera. Allora, questa sera presentiamo il volume Scipione e Pulsone, il suo tempo, a cura di Alessandro Zuccheri, edito da De Luca Editori e primo numero, come ci ricordava l'amico Moschini, primo numero di una collana diretta da Zuccheri stesso, che si chiama Arte e Storia, e di cui sono già annunciati, e, piacevole dirlo, sono già annunciati altri cinque volumi di preparazione, tra cui uno su un tema a me molto caro, vedo che è Gandolfi, che pubblicherà un libro su Prospero Orsi, pittore di Grottesca e Turcivano del Caravaggio, un tema che per gli studiosi nel mondo caravaggesco e di sommo interesse. Il libro nasce come, in conseguenza, della mostra, ciò è ben noto, che si è tenuta tre anni fa a Gaeta e che è stata la prima grande monografica su Scipione e Pulsone e che è stata molto meritevolmente promossa dalla nostra amica Anna Imponente, nella sua veste di sovrintendente, e ne parlerà lei stessa naturalmente, e effettivamente come sempre succede quando si fanno delle mostre fondate, insomma, e non sono certi orpelli, insomma, la ricerca viene molto sviluppata. Allora, questo libro ha molti contributi e ha anche molto diversi, ha un filo conduttore molto forte, effettivamente si può dire che tutti i problemi che sono legati alla ricostruzione della figura di Scipione e Pulsone sono vagliati in questo libro, quelli biografici, ci sono questioni biografiche molto, molto rilevanti. Quelle inerenti alla scansione che è una logica delle opere, Pulsone è un artista che, le fonti ci dicono, lavorasse lentamente e a caro prezzo. Ed effettivamente il riscontro tra i documenti e le opere, le firme e le date, rende difficoltosa la ricerca. Basti il caso che è fondamentale e che in questo libro è ampiamente esaminato, della deposizione, la grande pala d'altare, la deposizione che oggi si trova al Metropolitan Museum e che era sull'altare della Cappella degli Angeli, la Cappella della Passione nella Chiesa del Gesù e che è firmata, è datata in un modo non facilissimo, ma più o meno è da tutti condivisa la lettura a 1593 e di cui noi sappiamo, abbiamo dei documenti che complicano un po' la ricerca. Soprattutto c'è un molto noto pagamento che il maestro riceve nel 1590, quindi un notevole anticipo rispetto alla data segnata sull'opera, che gli viene erogato dal padre Giuseppe Valeriano, vale a dire l'artista gesuita che in quel momento sulla Chiesa del Gesù esercitava una sorta di controllo di direzione generale, diremmo oggi noi, dei lavori. E poi tutta la storia che segue e che nel libro, in questo libro è studiata molto a fondo, l'altro punto cruciale, crucialissimo della carriera di Pulsone, che è appunto la Pala degli Angeli per la Cappella del Gesù, sulla quale Giovanni Baglione nella vita del Pulsone stesso racconta un episodio che in questo libro viene interpretato in modo molto più profondo rispetto a come è stato fino ad oggi. Baglione dice che questa Pala degli Angeli fu rifiutata, fu tolta, perché Pulsone era venuto meno a quell'obbligo di non rappresentare persone viventi che invece avevano delle voti degli angeli, aveva messo. E' un episodio molto significativo perché si pone all'immediato precedente dei rifiuti o del rifiuto subito dal Caravaggio e in effetti la connessione Pulsone-Caravaggio, che fu indicata, sì, già da Herman Fossedon, in questo libro viene indagata con, diciamo, semplicemente con uno scavo filologico senza farsi prendere da nessuna, però ci sono dei dati molto significativi che collegano l'esperienza, la metodologia e la figura di Pulsone a quella del Caravaggio. Intanto tecnico, come Caravaggio Pulsone, non fa freschi. E' cosa, insomma, tanto più sorprendente per lui che per il Caravaggio, perché il Caravaggio bene o male arriva in un momento in cui la frenesia della fresco dell'epoca di Sisto-Quinto è ovviamente tramontata, ancorché se ne facciano a milioni di metri quadri, facciamo il giubilato del 1600, però, diciamo, la gravitas con cui Pulsone affronta i suoi incarichi, il suo grande approfondimento tecnico, speculativo, verrebbe da dire delle poche opere che viene, è certo che c'è un interessante parallelismo con il Caravaggio. Poi c'è un punto, insomma, veramente interessante, ed è nell'appendice al saggio con cui Alessandro Zuccari in effetti introduce il volume. Il saggio di Sandro è un saggio che effettivamente è proprio il punto degli studi della situazione ed è un saggio di grandissima dottrina, rilevanza, eccetera. Ma tra gli elementi interessanti è che in appendice al saggio di Zuccari c'è un elenco filologicamente molto ben costruito, diciamo così, di tutti quei quadri privati che risultano nelle fonti essere stati eseguiti da Scipione Pulsone e di fatto oggi non sono rintracciabili o alcuni sono ipoteticamente rintracciati ma restano dei dubbi. Ed è un elenco lungo perché questo elenco comprende la bellezza di 37 numeri, ma molti di questi numeri si riferiscono a opere doppie, a piccoli scigli, eccetera, eccetera, e in più c'è anche un elenco di opere che le fonti citano a Gaeta, patria del maestro, e che di fatto non rintracciamo più e sono altri quattro dipinti. Si ricava, soltanto leggendo il saggio di Zuccari e soltanto leggendo questo elenco, si ricava che ci sfugge effettivamente una certa parte della produzione di Pulsone che potremmo definire di devozione privata. L'elenco su cui il professor Zuccari ha esercitato la sua agribbia filologica e critica è un elenco di madonne oranti, immagini del Cristo, comunque immagini della Madonna col bambino, e per lo più indicate, alcune volte indicate, come preziosamente incorniciate. E questo fatto è molto significativo rispetto a un pittore che in questo libro emerge chiaramente come un pittore del lusso, cioè Scipione Pulsone per certi versi è visto dalle fonti come un Armani, un Valentino del Cinquecento, tanto è vero che nella impresa, nella Cappella della Vergine, nella Cappella della Madonna della Strada, nella Chiesa del Gesù, operata da Giuseppe Valeriano, le fonti dicono in modo inequivocabile e gli studiosi moderni confermano, Pulsone viene chiamato, e siamo già, non è un esordiente, non è un ragazzino esordiente, siamo negli anni Ottanta e del Cinquecento, quando si stringono i suoi rapporti con la compagnia di Gesù, viene chiamato per dipingere alcune stoffe in alcuni dei quadri che Valeria, non tutti. Essi sono riconoscibilissime, perché esattamente come noi, se conosciamo l'argomento, siamo capaci di riconoscere un vestito di Valentino o di Armani, una stoffa dipinta da Scipione Pulsone si vede lontano un miglio. E infatti, e come sono queste stoffe, come ha spiegato Benedetta Montevecchi nel saggio molto bello e molto competente che è inserito in questo volume, sono sempre di altissima specializzazione. Nei tessuti e negli oggetti, nei monili dipinti da Scipione Pulsone, è possibile effettuare una descrizione capillare dei materiali, delle tecniche esecutive, se il merletto è fatto in un certo modo, è fatto in un altro, se il caposcione è fatto in un modo o in un altro, se lo stensorio è lavorato secondo certe tecniche, compagnia bella. È divertentissimo leggere il saggio della nostra amica Benedetta, ma è altamente significativo. Scipione Pulsone è un pittore di lusso, nello stesso tempo è il più devoto dei devoti, quindi è un pittore umilissimo. Questo mix non ha bisogno di molti commenti, evidentemente. Fu denominato in modo sontuoso l'arte senza tempo, da parte di Federico Zeri, che si occupò meritevolmente negli anni cinquanta del Pulsone, riesumandone la figura. Ma senza tempo, per modo di dire, sono cose invece che ricorrono di tempo in tempo. Anzi, potremmo dire che Scipione Pulsone può essere benissimo letto come, non so, un papà ideale del Sassoferrato, che so io, così preciso, pulito. Ecco, c'è in Scipione Pulsone, questo lo disse anche Zeri, devo dire, lo disse molto bene, questo senso della pulizia, della stesura pittorica che corrisponde a un concetto morale, la pulizia dell'animo, la gentilezza e il garbo supremo. In uno dei saggi la mentalità, la operatività pulzonesca viene paragonata al Galateo di Monsignor della Casa. E' giustissimo, è vero. Una delle regole di Monsignor della Casa nel Galateo è quello che è ben noto ad alcuni degli amici presenti in sala che lo richiamano spesso, che non si deve mai parlare a voce troppo alta, dice, e poi mette a ragione Monsignor della Casa. Beh, Pulsone è evidentissimo, cioè Pulsone non parla mai a voce alta, ancorché i suoi contenuti sono veicolati, però è molto forte. D'altra parte, Monsignor della Casa è il figlio, diciamo, nella nostra ricostruzione storiografica di Baldassarre Castiglione, dal punto di vista, naturalmente, dei manuali di comportamento. Prima del Galateo c'è il corteggiano. E in effetti, in effetti, il corteggiano di Baldassarre Castiglione ha generato, questo va detto, nel nostro libro viene ricordato, ha generato la ritrattistica di tipo Pulsonesco. Cioè il ritratto che Raffaello Sanzio fa a Baldassarre Castiglione e che la moglie di Castiglione faccia vedere ai figli quando il marito, anche diplomatico, girava per l'Europa, che facevano i capricci, la moglie faccia vedere il ritratto e dice, lo dice lei, che i bambini si calmavano perché vedevano il padre. Cioè nel ritratto di Raffaello c'era il corteggiano, vale a dire l'uomo moderato, buono, vero, talmente vero che i bambini pensavano che il padre fosse. E questa è la ritrattistica raffaellesca, cioè la presenza. Pensate nel ritratto di Leone X, la stessa filosofia. E' la filosofia che riprende Pulsone. Anche i ritratti di Pulsone, che sono più vicini alla mentalità di Della Casa, che è quella di Castiglione, però stanno in questo filo. La veridicità, la verosimiglianza, ma garbata. Non c'è il vero, che so, curbettiare, il realismo, ma il naturale, il grande discrimine. Tra l'altro in questo, nel nostro libro, c'è una bella ricognizione dei concetti fondamentali che guidarono questi pittori e viene ripercorsa la trattatistica dell'epoca, viene ripreso il pensiero del Gilio, soprattutto del primo dialogo del Gilio, merito preclaro del nostro Zuccari, di avere riportato al centro dell'attenzione quando noi ci riproponiamo sempre il problema, la controriforma, la vittura della controriforma, quali sono le vere fonti, quanto pesavano i decreti del concilio e tutte queste cose, diciamo, anche un po' abusate nella critica, ma effettivamente questi principi del garbo della vigilanza sono legati al mondo pulsonesco. Nell'elenco di queste opere di devozione che è in appendice al saggio di Zuccari, noi cogliamo perfettamente il link con Caravaggio, perché si parla di opere fatte da pulsone probabilmente fino all'ultimo giorno della sua vita che è il febbraio del 1598, poi tra l'altro sul giorno esatto il collega amico Varnugli ha scritto un saggio intero per questo cadà, ma non lo dico sorridere, è un saggio filologicamente attrezzatissimo come sempre il nostro Varnugli che riposiziona un po' le date di nascita e morte, sulla morte si tratta soltanto di uno scarto di mesi legato a una lettura più attenta dei documenti. Sulla nascita c'è tutta una ricognizione, in effetti non si sa quando veramente Pulsone è nato, però Varnugli ci conferma che è nato in una data alta rispetto a quella all'inizio degli anni 40, e cosa sarebbe nato, mentre per molto tempo si è pensato che fosse nato invece al ridosso della metà del secolo. non è un dettaglio da poco, perché noi non conosciamo uno dei misteri di Pulsone la prima attività. Guarda un po' come Caravaggio verrebbe da dire, ma per Pulsone è lunga, in realtà le prime certezze che noi abbiamo su Scipione Pulsone, pittore, ma certezze tra l'altro legate all'attività, risalgono al 1571, pensate, il che vuol dire che ci sono una decina d'anni di attività di Pulsone, ma poi sono di più, perché le prime opere che noi possiamo studiare con una data certa giovanile e poi in cui Pulsone è Pulsone, cioè è già lui, sono il dittico famoso della Cappella Colonna a San Giovanni del Laterano, che sono del 78. La Maddalena e Martino V di Profilo ripreso dal presunto prototipo del Pisanello, che noi non conosciamo, e dove c'è questa Maddalena che fu restaurata proprio in occasione della mostra e venne un risultato incopiabile. A parte che per la mostra, prima della mostra, sono stati fatti restauri memorabili, la crocefissione della Chiesa del Gesù, dove è stata riletta la firma e la data, che in realtà non si sapeva, un restauro bellissimo di un'opera veramente bella. E poi l'assunzione della Vergine alla Cappella Bandini a San Silvestro al Quirinale, quella opera dipinta su lastre di Ardesia, su entrambe queste opere ci sono due saggi, una per l'altra, di grandissimo, permettetemi di dirlo, cari colleghi, di grandissimo interesse tecnico e storico. Soprattutto il saggio sul restauro dell'assunta della Cappella Bandini, un'opera naturalmente cruciale, fa una serie di nozioni e riflessioni sulla tecnica della lavagna, quindi sul rapporto di Pulsone col mondo veneto, che insomma c'è, perché in effetti la Maddalena di San Giovanni in Laterano, fu già detta da Zeri stesso tizianesca, e insomma un po' lo è, poi Zuccheri dice che è anche legata al mondo di Veronese, ma insomma comunque questa matrice tizianesca, anzi, meglio ancora, di questa assimilazione lombarda di Tiziano, che è un problema che riguarda anche il professor Merisi, insomma, alla fin fine, c'è pienamente. Non c'è dubbio che Pulsone è in rapporto con Venusti, vale a dire con un uomo che viene dalla stessa tradizione, quindi attraverso di lui Sebastiano del Piombo, quindi gira gira è sempre lo stesso rapporto del resto, dai documenti noi ricaviamo che Pulsone, nel momento in cui è strettamente vicino al mondo gesuita, riceve un incarico che forse non onora per la Chiesa Gesuita di San Fedele a Milano. ora San Fedele a Milano come noi sappiamo c'è la pietà di Simone Pederzano, il maestro del Caravaggio, questa pietà è datata da 1591 e assomiglia moltissimo alla pietà che Pulsone fa per l'altare della Chiesa del Gesù che è già pagata nel 90 e finisce nel 93. Come mai? Ma andiamo al punto. La prima testimonianza, una delle primissime testimonianze tutti noi studiosi se lo sappiamo del Caravaggio è la residenza presso Monsignor Insalata, no? Pandolfo Pucci di Recanati e che dice il Mancini nella prima biografia del Caravaggio? Che Caravaggio quando stava da Monsignor Insalata ed era indigente fece varie copie di devozione da mandare a Recanati patria di Monsignor Pandolfo Pucci stesso. E che cosa sono le copie di devozione? saranno esattamente come i quadretti elencati nell'appendice di... Cioè Sciupione Pulsone faceva questo. Dedicava un settore della sua attività a fare quadri e copie di devozione. Copie non testuali ma derivazioni ideali. Cioè la sua Madonnina richiama Raffaello richiama il mondo raffaellesco e guarda caso anche il quadro dietro le nostre spalle richiama il mondo raffaellesco anzi di Raffaello stesso secondo una tradizione se non che come ha ricordato Moschini Sciupione Pulsone prima era tanto amico con Zuccari però questa volta è Federico di cui parlo Federico Zuccari e la storia di questa amicizia è una storia che si potrebbe portare a emblema di tutta la storia dell'arte italiana e devo dire anche forse di tutto il mondo cioè la tipica storia di una grande amicizia una grandissima stima che finisce molto male molto ora per un certo periodo i due personaggi Federico Zuccari e Cipione Pulsone questo e questo libro ci dà la più alta documentazione la più fine e profonda documentazione di questo sono amicissimi sono vite parallele come Plutarco entrambi però hanno lo stesso obiettivo ecco il punto come ci ricorda molto bene un saggio che mi si permetta di definire magistrale come peraltro sempre del nostro autore cioè di Marco Pupillo il quale ha scritto un saggio notevole sia per a mio avviso per maturità dello studioso sia per profondità filologica e che cosa ci racconta che fino al 1580 Zuccari e Pulsone sono amicissimi ma in verità hanno lo stesso obiettivo diventare il leader delle associazioni di categoria potremmo definirle oggi la compagnia di San Luca i virtuosi al Pantheon quando Zuccari nel 1581 anno fatale per la storia dell'arte italiana deve allontanarsi da Roma a segno di uno scandalo perché Zuccari Federico era ben diverso da Alessandro da questo punto di vista cioè tanto Alessandro è buono è conciliano e deve navigare in queste perigliose acque in modo molto discreto e sempre gradevole e amichevole Federico Zuccari era un caratteraccio litigava sempre con tutti però con Pulsone no si distribuivano i ruoli ma nel 1580 accade uno scandalo uno dei mille scandali della vita di Federico Zuccari per cui adesso senza starlo a raccontare poi chi conosce questi studi lo sa benissimo si deve allontanare da Roma nell'81 a quel punto Scipione e Pulsone non non si comporta come l'amico Carisio dice beh no no occupa immediatamente il posto è vero che Zuccari avrebbe voluto poi dopo c'è una lunga evoluzione Zuccari ritornerà ma certo la lite che si scatena su questo quadro è l'emblema il cartiglio di cui Francesco Moschini parlava con tanta arguzia e sì certo come no la storia è che Scipione Pulso Federico Zuccari ha donato questo sommo capolavoro di Raffaello all'Accademia e tutti gli accademici che all'epoca non erano sommi conoscitori probabilmente ah sì quanto è bello questo Raffaello si vede lontano un miglio che non lo è però all'epoca noi sappiamo e allora Pulsone lo restaura lo restaura e come usava fare alla fiamminga mette il cartiglio col suo nome Zuccari a quel punto lo aggredisce e aggredisce il quadro tant'è vero che quando i restauratori antichi hanno ritrovato una pallida traccia di questo cartiglio che ora non si vede più perché poi dopo il restauro di Pico Cellini non non si vede più hanno trovato questo cartiglio massacrato da proprio colpi botte Zuccari dovete picchiare il quadro oltre che oltre che il Pulsone cosa significa? cosa significa? in realtà nessuno lo sa ma diciamo è una delle grandi chiavi di volta per capire ma questo quadro in realtà chi l'aveva dipinto sul serio? e perché Scipione Pulsone o so mettere il cartiglio? una risposta facile facile sarebbe perché l'aveva fatto lui quando erano amici tanto amici negli anni 60 con Federico forse Pulsone e Federico forse si potevano pure essere accordati per fare un quadro per la compagnia di San Luca in effetti alcuni studiosi del passato hanno ipotizzato che questo quadro fosse stato fatto da Federico Zuccari in persona ma non è così non c'è lo stile di Federico però c'è una mano di un pittore che si è educato veramente sul raffaellismo che è un conoscitore profondissimo che è ironico garbato furbo e falsario ma falsario già nella mentalità del Cinquecento che voi vi potete immaginare che Raffaello avrebbe concepito una composizione del genere ma neanche per sogno tuttavia alcuni eruditi ancora oggi continuano a dire che forse il quadro è di Penni o di non si sa chi ma non è di Penni è di un pittore certamente che ha dipinto dopo la soglia del Cinquanta beh hai visto mai lo sdegno tra i due sia nato proprio da questo cioè che a un certo punto Scipione Bolzone si è restaurato il suo stesso quadro e ci ha messo il nome perché in verità l'aveva fatto lui questo non si può sapere e non si saprà mai ma è molto divertente pensarlo allora permettetemi di elencare gli autori dei saggi c'è dunque Zuccari che introduce da parte sua tutto il libro poi Vannugli che ci dà notizie sulla nascita la morte poi Massimo Moretti fa questa ricognizione sulla teoresi del tempo e ci dà grandissima dottrina è vero di prima mano e poi c'è questo saggio in vero eccellente di Pupillo su Pulsone e Zuccari da cui ho attinto a piene mani poi c'è un saggio di Gian Carlo Gianni Carlo Sciolla sul letterato Pomponio Torelli uno di coloro uno di quei letterati di cui Torelli era un uomo dei Farnese e il rapporto naturalmente di Pulsone Corifano è molto importante Pulsone fece per questo letterato due ritratti Torelli ne scrisse delle poesie e queste poesie Sciolla vi vede delle componenti teoretiche molto interessanti poi c'è un altro saggio veramente grandioso della nostra grande storica Maria Antonietta Visceglia su Ferdinando dei Medici questo è un saggio di cui io non commento perché in realtà non c'entra niente col libro però non importa c'entra perché Zucchari ha fatto il ritrato a Ferdinando dei Medici però in realtà questo saggio della Visceglia è un sofferto assai sofferto prodotto di una grandissima ricerca che c'è alle spalle che è stata non poco intralciata a dire la verità e di cui fatta da lei e da altri grandi studiosi ma è un saggio veramente debbo dire bellissimo praticamente lei ci restituisce la figura di Ferdinando dei Medici che peraltro è un grande protettore di pulsone quindi Ferdinando che prima è cardinale poi è granduca di Firenze è una storia nota ma non è noto la personalità praticamente nel saggio della Visceglia emerge la figura di Ferdinando dei Medici è una sorta di emblema di quello che potremmo definire l'eterno l'eterna democrazia cristiana diciamo nella storia delle arti cioè lei ci dà l'immagine di questo diplomatico di questo uomo di stato di questo uomo grandissimo e nel contempo subdolo meschino e generoso amantissimo delle arti ma soprattutto degli affari propri una una dimensione che però diciamo è narrata dalla studiosa con una forza una intelligenza veramente altamente divertente poi c'è il saggio di Amendola di Aderana Amendola sul rapporto di Pulsone con gli Orsini questo è un altro perché naturalmente i rapporti di Pulsone con le grandi famiglie nobili e dove tra l'altro c'è una notizia bellissima che a me perlomeno ha entusiasmato io non cioè c'è arrivato lui con la ricerca documentaria e Pulsone che amava presentarsi come nobile è vero come gran signore pare fosse anche un uomo bellissimo eccetera ha abitato e è andato a abitare nella casa di Macelle dei Corvi di Michelangelo Buonarroti questa cosa mi ha mi ha veramente e tra l'altro Amendola può ricostruire parte della storia di questa casa che è una storia bellissima poi c'è il saggio di Dora Catalano sul quadro della Cappella Carafa a San Domenico Maggiore saggio notevolissimo ricchissimo di dati basti il fatto che la collega Dora ha ribaltato completamente quella che si pensava fosse la datazione ha letto il quadro in un'ottica giusta e interessantissima e ha riposizionato questa opera nella diciamo nella giusta dialettica di questa altissima dottrina pulzonesca di cui in realtà noi non diciamo niente adesso poi c'è l'otarsichel che questo pure è un saggio bellissimo sul sarto ecco quello pulzone non è che soltanto sapeva fare bene i vestiti è che aveva un'amicizia strettissima col sarto Antonio Valentini il il Giorgio Armani della Roma del Tempo il quale Valentini era un uomo colto ricchissimo che si è potuto permettere addirittura tali erano le sue relazioni nel suo l'ascito testamentario il suo di lasciare il re del marchese a sdrubale Mattei che non è proprio l'ultimo di un quadro del Caravaggio un San Sebastiano pensate un po' tra l'altro tra l'altro Sichel ci fa notare che è il primo l'ascito testamentario che noi conosciamo nella storia dell'arte italiana in cui un quadro del Caravaggio è citato in un lascio testamentario pensiamo alla rilevanza di questo sarto ma i sarti gli stilisti italiani sono stati è molto interessante poi c'è Gandolfi che scrive appunto sulla Cappella della Passione prima ho attinto qualche dato il rapporto Scipione-Pulsone Gaspar e Celio Valeriano poi Benedetta Montevecchi l'abbiamo detto ha scritto questo saggio sulle arti rare riprende il termine antiquarti ah poi un altro saggio veramente bello poi per me interessantissimo che pure questo non c'entra niente col libro però è Anna Chiara Fontana che ha scoperto un inedito bellissimo e importantissimo di Tommaso Laureti ora uno dice vabbè ma che c'entra che c'entra Tommaso Laureti ma no c'entra come intanto per la comune discendenza da Sebastiano Del Piombo che è sempre un nome tutelare Tommaso Laureti voi sapete è l'unico allievo di Sebastiano Del Piombo perlomeno secondo Vasari e lei ha ritrovato l'autrice questo quadro della morte di Adone che è un quadro molto importante e oltre a tutto ci fa tirare un sospiro di sollievo perché finalmente si parla un po' di arte profana in questo libro fin troppo devoto poi c'è il saggio di Iuri Primarosa su Ottavio Leoni che nella nella ricostruzione del nostro collega è colui che riceve il testimone per usare il linguaggio sportivo di Scipione Pulsone cioè quando Pulsone muore è Ottavio Leoni Padovano che diventa il ritrattista delle classi dirigenti e celebra questo link con Caravaggio perché nasce dal ceppo pulzonesco è Padovano quindi si sente molto in lui la cultura veneta peraltro Primarosa ricostruisce la figura del padre Ludovico Leoni medaglista e pittore una figura molto rilevante su cui finora gli storici dell'arte non hanno fatto gran chiarezza è la prima volta a mia scienza che si scende un po' più nel profondo di questo link che è rilevantissimo con contributi filologici di prim'ordine non possiamo però evocarli e qui finisce il libro ci sono i due saggi sui restauri Cristina Bigari sulla sull'assunzione della Vergine di Pulsone e Federica di Napoli Rampolla sulla crocefissione della Vallicella grazie al professor Storinati oggi mi pare che tu sia stato reticente sulla questione del possibile falsario del nostro quadro oggi hai cercato di ascriverlo a Scipione Pulsone perché in genere ci raccontate un'altra storia però magari nella seconda tornata ci puoi dare ulteriori indicazioni la parola Barbara Agosti grazie 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 a tutti